Ciao belli! Come andiamo? Oggi facciamo un esercizio speciale per ripassare l'alfabeto. Voi ricordate l'alfabeto? Molto bene! Io sapevo! Molto bene! Vediamo! Io posso dire certe parole, voi potete scrivere, dopo vediamo. Va bene! Facciamolo così! A-M-E-R-I-C-A Cosa avete? Vediamo! America! Avete l'America? Molto bene! Ben fatto! Grazie ragazzi! Adesso facciamo un'altra I-T-A-L-I-A Va bene? Cosa abbiamo? L'Italia! Molto bene! Ben fatto ragazzi! Adesso facciamo un'altra parola R-U-M-E-A Cosa avete? Abbiamo Roma! Ben fatto ragazzi! Grazie! Perfetto! Possiamo continuare! Facciamo così! Facciamo B-O-L-I-V-I-A Cosa abbiamo? Molto bene! Avete Bolivia? Ben fatto ragazzi! Grazie! Adesso delle frasi! Facciamo delle frasi! Frasi complete! Va bene? Vediamo! Io sono stanco! Io sono stanco! Cosa avete? Io sono stanco! Sono stanco! Molto bene! Grazie ragazzi! Adesso facciamo... Adesso facciamo... Lei ha freddo! Lei ha freddo! Lei ha freddo! Cosa avete? Lei ha freddo? Lei ha freddo! Molto bene ragazzi! Ben fatto! Siete pronti? Dopo abbiamo... Questa zuppa è buona! Questa zuppa è buona! Questa zuppa è buona! Cosa avete? Questa zuppa è buona? Ricordate c'è... Questa zuppa è buona! È buona questa zuppa! È buona! Va bene ragazzi! Ci vediamo presto! Alla prossima! Ciao! A dopo! Ciao!